Let the body set the flow, let the body set the flow, let the body set the flow, let the body set... Ciao a tutti amici Softgunner, allora oggi siamo qui per parlare di un nuovo prodotto, si tratta di un fucile da cecchino a molla, l'M187A, disponibile presso il sito che state vedendo in sovraimpressione www.silsoftair.it e adesso andrò a farne una recensione. Allora, proviamo subito un foglio di istruzioni, molto semplice, è soltanto un foglio, un'astina per la pulizia della canna, ovviamente il nostro fucile, un bipiede, gli accessori per montare il bipiede, tre chiavi a brugola, due anelli porta ottica, un BB loader, e infine un'ottica 4x32. vi ricordo che tutto questo è compreso nei 150 euro del costo dell'ASG, ecco qua, con anche il tappino per proteggere le lenti, ed ecco qui il nostro M187. Come già letto si tratta di un ASG a molla, in ABS, con canna in metallo, rissi in metallo, e un bolt action, qua c'è la sicura, la potenza è di un giauro e mezzo, è dotata di un calcio regolabile M4, di un'impugnatura M4 in plastica, qui trova posto il caricatore, bene ragazzi, allora questo era l'M187A, disponibile da Sealsoft Air, all'incredibile prezzo di 150 euro, Chiata di Tecnica, Chiara. 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 Chiara.